ok e anche oggi ci si prova a portare a casa un video spera visto che è la decima cazzo di volta che provo a registrarne uno bella raga bentornati in questo fantastico video in cui non so nemmeno io cosa vi dirò di news a parte il fatto che mi si stanno staccando le pedaline passeggeri dalle vibrazioni in realtà è il primo video che vedete voi con la nuova GoPro Hero 8 Black perché ho avuto problemi enormi con il microfono perché non si sa non si sa continuava a scollegarsi problemi vari si gracchiava non lo so non lo so non si sentiva bene adesso dovrei essere riuscito a sistemare questa cosa spero presumo prego però finché non vedo questo video non lo saprò e vi giuro che raga è una cosa bruttissima che magari organizzo organizzo passi faccio cose e poi e poi il microfono mi abbandona anche no grazie tu sei in giro a farti la passeggiatina delle delle tre e mezza ben signore ben signore come si suol dire un po' in mezza un po' in mezzo al cazzo mamma mia che peli nulla è nulla vi prego non voglio fermarmi qui al semaforo vi scongiuro abbiamo i fantastici nuovi specchietti e il portatelefono ho detto che ero molto contento anche perchè è la mia la mia prima collaborazione con un'azienda seria parlando di scuola guida ho un video che adesso magari vi metto di io che faccio scuola guida oggi andremo a fare la mia prima guida per patente A2 siamo super eccitati oddio che palle allora non volevo metterla la giacca però sai com'è primo giorno non sapevo cosa mettere cosa non mettere ciao 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 oddio che stacca l'ho tirato insh quindi come ruggisce ok tutto al minimo una volta che vanno possiamo andare qui adesso è tutto adesso è che la finzione ah ops perché paradossalmente tu vai a pensare cazzo se vado troppo veloce mi cazziano e invece no no su questo qui no qui devi andare forte bang bang signore sta per fare una frittatina dobbiamo prendere confidenza con questa moto figaro veramente veramente difficile facciamo il tempo facciamo il tempo facciamo il tempo facciamo il tempo Un po' troppo veloce Ho visto che non mi stavi guardando Allora ho detto Mi hai distratto quando mi hai tirato su Andavi come un missile Diciamo che comunque Me la sono destreggiata abbastanza bene Fare manovre non sono neanche difficili Però comunque parliamo di manovre abbastanza strette Su un circuito apposito Con una moto totalmente diversa dalla tua Perché raga davvero Cioè Impostazione di guida Frizione Acceleratore Tranne il fatto che è monocilindrica Cioè è veramente veramente Diversa come moto Mica che palle Cioè ma Alle 4 dove cazzo state andando tutti Figa sto a morì Figa sto a morì Sì sì Sto morendo Oh sì sì Senti la gocciolina Senti la gocciolina Mamma mia che bello Mamma mia che bello Sì 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 mi piace Mi garba Allora già hai Già hai Praticamente non sei sulle strisce Perché devi cagarmi il cazzo Cioè perché devi andare piano Porca puttana Perci dare precedenza stella Perci darmi precedenza stella Di che anno è Di che anno è 74 74 Bellissima Dai scherzo Non ti arrabbiare No il Benelli Guarda il Benelli te lo puoi anche tenere Il Benelli te lo puoi anche tenere Cazzo Tu sei più avanti che indietro Ma che cazzo fa Allora ho questa che vibra Le pedane passeggero che vibrano C'è qualcosa che non vibra sta moto? Ah non sono convinto Ma quei ragazzi erano leggermente contro mano Ma io non ci passerò mai qua dentro Ma ci passerò qui di fianco Vabbè ma c'è tranquillo Si voglia eh Era più in qua che là Porco Dio caro Cosa cazzo ho rischiato No però eh E' il beccio no E' il beccio no No che poi divento cattivo Divento cattivo Dove sta andando signore? Dove sta andando? Dove sta andando? Mi chiamano gli illumino l'abitacolo Dove sta andando? Sì Che sghetto, che sghetto, porca troia, porca troia, che sghetto, bestia Andiamo se riesco a fare il trick, andiamo se riesco a fare il trick Trick fatto, boom Mamma mia, raga, ma che cazzo di trick ho fatto? Stai scherzando? Vi saluto, ragazzoli, un bacio